Ci troviamo in una strada che conduce dal comune di Roccella al comune di Cavologno, questo è il territorio roccellese, praticamente incontrata Salice. Siamo stati allertati dal signor Stumpo, vero? Perché è arrabbiato, signor Salvatore? Perché è arrabbiato che non si può passare qua. Io non c'ho, del 1963, che ho venuto nella contrata di candidati... Presidente del comune di Cavologno? Sì, io sono residente nel comune di Cavologno e di questo pezzo di strada fino ad andare a Cavologno è un disastro totale. Non si può andare avanti così. Ascolti, lei utilizza più questa strada per andare verso Roccella oppure per andare verso Cavologno? Io utilizzo 3-4 volte al giorno con mia moglie per Roccella e per Cavologno. Quando ho bisogno per andare per Cavologno, vado per Cavologno. Vabbè certo. Senta, dicevo che questo mucchio di terra è qui da tanto tempo. Questo mucchio di terra, l'ultima pioggia che hanno fatto, hanno presentato qualcuno, hanno portato delle cavallette e hanno portato due mucchie di terra. C'è una transenna e c'è il mucchio di terra che è rimasto qui. È rimasto qua morto. Quanto tempo fa? Eh, forse minimo, minimo 7-8 mesi. L'ottunno scorso, inverno scorso. L'hanno portato, è uscita finca l'erba, si figura. Allora, altro punto critico, ci troviamo praticamente al confine tra Roccella e Cavologno. Siamo ancora nel comune di Roccella, questa è contrada a Salice. Una volta qui, io ricordo che scorreva un fiumiciatolo, no? Sotterraneo. C'era anche una piccola fontanina di cui, insomma, i contadini andavano ad attingere l'acqua. Che è successo qui? Qua davo oltre 12 o 13 anni che questa strada è così, è morta da sola. Qua sono venuti che la strada era franata sotto e hanno messo del misto, l'hanno apparata col misto. Che mi hanno detto che è costato una volta 80 milioni, un'altra volta 40 mila euro. Non si sapeva queste soldi perché sono spendute e non è fatto il lavoro come si deve di fare un ponte di là, alla traversa del vallone. Perché qui sotto c'è un occhio di acqua e non può mai tenere qua quella cosa. Il pericolo è che può rifranare di nuovo, giusto? Il pericolo che è frana, il pericolo che è arrivato e non sapete che è scuro, che è scuro, vi indagliate sotto che è franato e va ammazzato. Ovviamente di notte non c'è illuminazione e quindi non si riesce a capire dove stanno le buche. Io vi faccio vedere anche in cima, su alla montagna che è venuta giù un bel po' di quel monte. Vedete, è completamente franato. Parte di quella terra con le piogge è finito proprio lungo questa carreggiata, davvero molto molto sconnessa. Ma più giù, verso casa sua, ci sono ancora problemi. Altro pezzo di strada, come vedete, difficilmente si può camminare in maniera spedita, sui venti all'ora più o meno. E vedete, qui è una bomba d'oroggeria. Perché vedete, gli alberi sono completamente piegati. Ciò significa che c'è una frana in atto. Tutto praticamente il viale. Sono gli alberi rivolti verso la strada, quindi vuol dire che il terreno si continua ancora a muovere. Se riusciamo a inquadrare da dove siamo venuti, verso le nostre spalle, vedete, ecco il panorama degli alberi. Quasi stanno invadendo l'aria della carreggiata. Quindi la frana che avanza, probabilmente alle prime piogge, ancora una volta il terreno invaderà il catrame, cioè l'asfalto. E qui ci hanno messo il cemento. Quando è accaduto Stumpo? Stumpo quando aveva oltre 12 anni che l'ha messo uno che è morto, che passava con l'autobetone mera. Quando ho visto la buca ha messo... Non è morto sull'asfalto, non è morto qui, no, no, no. Non c'entra nulla. No, quello lì ha visto la buca che passava con l'autobetone mera. Quando è andato a caricare il cemento, ha messo mezzo metro di più, ha messo mezzo metro di cemento qua. Ce l'ha fatto per fare un favore, insomma, no? Cosa chiede? Lei chiede al sindaco di Cavoloni, al sindaco di Roccella, che cosa? Chiedo un mentone a posto a strada che è irresponsabile di queste cose. Io non chiedo niente, non voglio niente di nessuno. Lei ha avuto anche danni, ha fatto danni con la macchina? 200 euro a coppa dell'olio. Una gomma nuova, caggiù, l'ho spaccata completamente, l'ho tagliata a due pezzi. Io sono andato al gommista, ho pagato 70 euro. Un terreno che col buio diventa difficile da percorrere, non ci sono fari, non c'è nulla, strada sconnessa. Quindi non sappiamo se queste strade sono comunali o provinciali. A chi dovere noi chiediamo che vengano in qualche modo aggiustate perché l'educazione davvero è insostenibile.